Anticipazioni Tempesta d'amore. Yvonne innamorata di Eric. Lunedì, 28 agosto 2023. Arian, a suon di ricatti, riesce a portare Christophe dalla sua parte durante le votazioni. Werner è sconvolto dal cambio di rotta del nipote. E, diventato complice della Dark Lady? Intanto, i dipendenti dell'hotel sono esasperati e delusi dopo aver appreso che i loro superiori hanno votato contro l'aumento degli stipendi. Furibondo, il vecchio Salfield raggiunge Christophe in cerca di spiegazioni esaustive. Il Salfield non è pronto a confessare la verità. Arian gli muove sempre più pressioni. Eric è deluso quando Jerry gli dice di avere dei programmi con Merle per la serata e di non poterla trascorrere con lui come invece gli aveva promesso. Alla fine, il Vogue incrocia Yvonne. I due bevono un drink e sono molto in sintonia. Josie, acclamata dal personale del Furstenhof, è chiamata a negoziare con il direttore amministrativo, ovvero Paul. Martedì, 29 agosto 2023. La situazione tra la forza lavoro e la direzione diventa sempre più tesa. Werner si ritrova in un momento di grande difficoltà. Robert gli offre tutto il suo sostegno. Cornelia è in procinto di partire per ricongiungersi con il figlio Benny, il quale sta lavorando all'estero con la sua fidanzata presso una catena stellata. Gli assicura che riusciranno a gestire la loro relazione a distanza. Robert, però, ne dubita e si confronta con Michael, che è dalla parte del suo amico. Yvonne si sente in dovere di sostenere la figlia nella battaglia che sta conducendo. Eric passa a trovarla di nuovo. Ed organizza un picnic con lei e Josie. I tre vivono momenti molto significativi. Josie, inoltre, nota che la sintonia tra i suoi genitori è fortissima. Werner pretende di conoscere la verità da Paul. Perché improvvisamente Christophe sta supportando Ariane? Mercoledì, 30 agosto 2023. Paul parla a Werner della vicenda della sottrazione indebita di denaro dalle casse dell'hotel. Racconta di averlo fatto per salvare le proprietà della fidanzata con stanze dalla rovina. Aggiunge che Christophe ha coperto il misfatto per non farlo licenziare. Ariane, però, lo ha smascherato e sta tenendo il Salfield sotto al suo gioco per costringerlo ad obbedire a tutti i suoi loschi ordini. Werner è tenuto a richiamare sia il nipote che il Lindbergh. Poi, decide di cambiare strategia e di forgiare un nuovo piano contro la sua nemica. Difatti, poco dopo, Christophe e Paul arrivano ad un passo dal cancellare i fil incriminanti presenti sul portatile della Dark Lady. Purtroppo, qualcosa non va per il verso giusto. Hildegard è preoccupata per Max e Vanessa che stanno incontrando innumerevoli ostacoli con la conversione della soffitta in attico. Giovedì, 31 agosto 2023. La Sombitler prega Michael di aiutare il nipote e Vanessa con il loro progetto immobiliare. Il dottore decide di sostenerli, pentendosi di averli un po' trascurati negli ultimi tempi. Mentre stanno scherzando ripercorrendo la loro passata relazione, Yvonne ed Eric si scambiano un bacio. Dopo di esso, la Klee fa finta di niente, precisando di essere innamorata di Christophe. Eric interpreta il momento di vicinanza vissuto come un errore. E si convince che lei non lo rivoglia nella sua vita. La Klee, il giorno seguente, si mostra completamente disinteressata. Invece, non ha fatto altro che pensarlo tutta la notte. Paul ha una dura discussione con Josie, sta portando avanti una battaglia persa. Lei, però, non vuole arrendersi. E dopo essersi confrontata con i suoi colleghi, è costretta ad indire uno sciopero. Paul ricorre a drastiche misure. Venerdì, primo settembre 2023. Michael e Max hanno difficoltà a trovare un valido architetto che si occupi dell'attico. Michael cerca di creare il progetto da solo. Quando lo presenta all'autorità edilizia, incassa un durissimo colpo. Rosalie si serve dei suoi vecchi contatti politici per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Paul è costretto a chiudere il salone di bellezza. Josie gli fa capire che non si arrenderà e decide di prorogare lo sciopero. Data la delicatissima situazione che si è venuta a creare, non ha altra scelta e confessa alla Klee che Arian sta tenendo tutti sotto le sue grinfie a causa della vicenda dell'appropriazione indebita. Josie, dopo questa rivelazione, raggiunge Werner e Christophe impressionando Paul con il suo discorso accurato. Shirene ha paura di perdere il suo posto di lavoro e si rivolge a Jerry in cerca di aiuto e sostegno. Sabato, 2 settembre 2023. Shirene e Jerry ricevono supporto da Merle che salva il centro estetico dalla chiusura. La Silan abbraccia il Richter. La Fina Uli becca in flagranza e la gelosia esplode. Rosalie organizza un incontro tra il facoltoso signor Gruber e Michael. Quando il dottore rincasa, ha una sorpresa in serbo per la sua amata. Mr. Gruber è un fan della sua canzone, Air and Love, ed aiuterà Vanessa e Max con il loro progetto. Il giorno seguente, la Engel è chiamata a cantare. Qualcosa non va come previsto. Per trovare al più presto una sostituta di Rosalie, Michael tiene un'audizione con Ivone e Vanessa che, però, non riescono a convincerlo con le loro abilità canore. Quando tutto sembra perduto, ecco che qualcuno si presenta al suo cospetto. Caroline Lamprecht, vecchia conoscenza del dottore, vuole trovare lavoro al Furstenhof. Domenica, 3 settembre 2023. Jerry è costretto a confessare a Merle di non aver mai dimenticato Shiren. Con quest'ultima, la Fina o ha un durissimo confronto. Pentitosi, il Richter prova a recuperare terreno con la sua fidanzata ma è tutto inutile. Jerry chiede consiglio a Werner. Poi, stranamente, non si presenta al lavoro. Dietro suggerimento di Josie, Christophe e Werner trovano finalmente una soluzione per l'aumento salariale e per bloccare il perfido progetto di Arian. Quest'ultima, però, è ancora in possesso delle prove contro Paul e Christophe. Werner, verso sera, viene colto da una geniale intuizione. Paul vuole congratularsi con Josie per i successi raggiunti. Lei, però, lo tratta con estrema freddezza. E, estremamente delusa per come si è comportato durante lo sciopero. In virtù di questo, si allontana ed arriva perfino a mettere in dubbio ciò che sente per lui. Grazie. 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 Grazie.